Uomini e donne, Camilla Mangiapelo risponde alle voci presunti tradimenti del suo ex Riccardo Gismondi. Dopo la fine della relazione fra Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi, molti sono state le indiscrezioni circa la rottura tra i due volti di uomini e donne. Stando ad alcune fonti vicine alla ormai ex coppia, i due si sarebbero lasciati per i presunti tradimenti dell'ex tronista. Nel corso dei mesi la stessa ex corteggiatrice l'aveva fatto intendere in alcune sue storie su Instagram. Nella giornata di ieri poi Deyanira Marzano ha pubblicato alcune segnalazioni arrivate in direct. Sembrerebbe infatti che Riccardo adesso frequenti la donna con cui avrebbe tradito Camilla. Non solo, la Marzano avrebbe anche ricevuto da un utente ovviamente rimasta anonima le conversazioni con tanto di video scambiati con l'ex tronista. La ragazza che mi ha scritto mi ha mostrato tutti i messaggi datati con numero e video. Mi ha chiesto la cortesia di non mostrarli. Le storie degli influencer di origini napoletane sono state ripostate dalla Mangiapelo, che ha risposto con un perentorio. Mentre preparo il pranzo e chiudo il borsone vi leggo lo sapete come la penso. Il tempo è galantuomo. Loading uguale Lazzi. Dopo la frecciatina, Camilla Mangiapelo è uscita allo scoperto con il suo nuovo amore. Luca Moro, calciatore DL Frusinone, pubblicando la loro prima foto di coppia sui social. Crescine pentru tine, fii egoista, liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boyul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC-ul care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avezi tu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu? Tre' să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, parasiții, dragonul maxi, ghespe. Chimie, rimaru, spike, puia, si, swapo. Grasul, nimeni altu, te-l vedeți, sau carpo, tre' să vă mănânci vers cu vers card intens. Tre' să crezi, crezi, ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor. De zici că mă bat cu boss-ul, la cât de urât.